Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto a radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre, Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto! Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo. Ciao, sono Andrè Corallo. Ciao, sono Andrè Corallo. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. da Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Daniele. e a tutti. seguite a tutti. parliamo di... Grazie a tutti. Radio inizio. inizia il campionato.